pace e bene cari amici bentrovati in questa seconda domenica del tempo d'avvento celebriamo la solennità dell'immacolata concezione dato che è l'otto dicembre dunque noi vogliamo farci in particolare due domande la prima cosa significa che maria è l'immacolata concezione la seconda cosa può dire a noi il testo dell'annunciazione vediamo anzitutto cosa significa immacolata concezione pio nono nella sua lettera apostolica l'inefabilis deus ce lo spiega dicendo che maria è stata preservata da dio in vista dei meriti di gesù da ogni macchia di peccato originale dunque maria è stata concepita immacolata senza peccato originale sappiamo bene che il peccato originale non è tanto così un peccato più originale degli altri e non è neanche una colpa che abbiamo commesso noi non si sa quando che ci ritroviamo già alla nascita il peccato originale è una condizione ferita nella quale nasciamo ad amo ed eva dopo la loro disobbedienza hanno rotto la relazione con dio si è incrinato il rapporto tra loro con il creato dunque potremmo dire che si è inquinata la sorgente ecco per fare un esempio semplice se io versassi del petrolio alla sorgente di un fiume inquinerei tutto il corso d'acqua dunque si nasce tutti in una condizione di separazione da dio c'è una condizione ferita che sperimentiamo tutti profondamente nel cuore che è quell'inclinazione al male per la quale tendiamo a vivere per noi stessi siamo fatti per il bene ma fatichiamo non solo a comprenderlo ma soprattutto a compierlo siamo fatti per amare eppure tendiamo a vivere per noi stessi per l'egoismo prigionieri della paura di amare fino in fondo e della morte quanti si detti a metà quante occasioni di bene perdute quante volte come direbbe san paolo sappiamo qual è il bene ma non abbiamo la forza di compierlo maria per grazia è stata preservata da tutto ciò dunque dunque ha avuto la possibilità di dire dei sì pieni a dio non adombrati dal ma non detti a metà per farvi un esempio semplice direbbe benedetto sedicesimo che la luce in una casa entra nella misura in cui si aprono le finestre e le tapparelle maria è stata totalmente aperta a dio il suo è stato un sì pieno che ha reso possibile in lei l'incarnazione del figlio di dio e attenti maria non aveva tutto chiaro maria non era esente dal cammino di fede anche lei ha dovuto faticare per seguire gesù non era scontato che maria dicesse per forza sì la sua libertà era intatta e maria è stata tentata come lo è ognuno di noi ma lei sin da piccolina coltivato il suo rapporto di amore di fiducia nei confronti di dio e della sua parola e la sua vita è stata un continuo sì a dio non gli ha detto mai un no mai una volta è caduta nel peccato e nella disobbedienza ecco perché lei è la creatura perfetta potremmo dire come dio ha sognato l'umanità allora possiamo guardare alla nostra mamma nella fede e davvero cercare di imparare da lei e soprattutto capire che dire di sì a dio vale la pena grazie al suo sì è venuta la salvezza per tutti noi grazie ai nostri piccoli sì viene non solo la salvezza per noi ma anche tanto bene alle persone che ci stanno accanto passiamo alla seconda domanda dunque cosa può dirci il testo dell'annunciazione prendiamo qualche piccola pennellata per vivere anche noi il nostro cammino di fede anzitutto l'annuncio dell'angelo cioè dio irrompe in modo particolare nella vita di maria quando quando diciamo che ancora non tutto è compiuto maria è promessa sposa dunque non è ancora pienamente sposa non è ancora una donna aperta alla maternità è una ragazzetta in periferia ecco dio entra nella quotidianità per proporre qualcosa di più per portare una pienezza altra rispetto al solo progetto che poteva avere maria e sono bellissime le parole dell'angelo haire che carito mene rallegrati piena di grazia potremmo tradurre rallegrati perché sei oggetto del compiacimento di dio in semplicità si felice perché dio si è innamorato di te da dove parte questa esperienza di fede da dove parte la nostra esperienza di fede dal capire dall'esperire che dio bussa al nostro cuore e vuole entrare per portare pienezza entra per proporci molto di più rispetto rispetto a quello che noi avremmo potuto pensare o realizzare con le nostre sole forze e il suo annuncio non parte da un dovere morale di qualcosa che dobbiamo fare ma dal sentirci profondamente amati dio innamorato di te tante persone purtroppo pensano a dio e la sua volontà quasi come una sorta di spada di damocle che pende sulla testa pronta ad abbattersi sui propri sogni e progetti basti pensare quante persone davanti ad avvenimenti dolorosi alzando le spalle dicono è volontà di dio ma con una tristezza che fa palesare come questa volontà di dio siano praticamente tutti i guai possibili da accettare nella vita no rallegrati dio si è innamorato di te dio vuol far qualcosa di meraviglioso proprio in te allora maria è turbata è turbata ogni esperienza di dio ogni autentica esperienza di dio non lascia come prima smuove sempre qualcosa nel cuore ecco ogni incontro con lui che per esempio anche noi possiamo vivere nell'incontro con il signore nell'eucaristia nel meditare personalmente la sua parola qualcosa lo smuove quando davvero il nostro cuore è aperto certo se io vado ad incontrare il signore nei sacramenti intanto penso al pesto da preparare a casa o se leggo la bibbia la modi topolino è un po difficile che qualcosa nel cuore si smuova con maria è turbata e scossa profondamente e cosa dice l'angelo non temere maria perché hai trovato grazia presso dio questa parola non temere che nell'antico testamento e non aver paura secondo alcuni biblisti ricorrerebbe 365 volte la cosa simpatica che sarebbe un giorno una volta ogni giorno dell'anno potremmo dire tante volte quanti giorni dell'anno come a dirci che ogni giorno dio ci dice non temere perché sa che abbiamo tante paure e sa che tante volte la paura mal gestita non solo ci blocca ma ci fa correre fuori strada quante occasioni di bene perdute per paura per paura del giudizio altrui per paura di sbagliare per paura di non farcela ecco il signore quando entra porta la sua pace e ci annunzia e realizza in noi questa vittoria sulla paura sul timore non temere non temere perché perché sei forte coraggiosa perché ce la fai perché devi riuscire no perché il signore è con te dove si risolvono le paure più profonde non in uno strenuo coraggio ma in un rapporto di fiducia nell'esperire nella parte più profonda di sé che non siamo soli ma direbbe il signore io sono con te il suo stesso nome la sua realtà quante volte lo sperimentiamo anche da piccoli bellissimo aiutare i bambini per esempio anche davanti alle semplici paure dell'andare a dormire del buio eccetera abituarli a fare esperienza della preghiera della relazione con dio come luogo dove affrontare vincere le proprie paure lì io sono con te ci dice il signore allora maria vuol comprendere come tutto ciò possa avvenire è aperta a questa possibilità non è chiusa e domanda all'angelo vedete la fede non manda spasso la ragione ma la porta al massimo l'intelligenza la razionalità è spinta al suo massimo livello poi poi c'è il tuffo fiducioso in dio che è oltre comaria riflette e aperta alla possibilità che dio compia in lei ciò che sta annunciando e l'angelo le offre persino un segno guarda anche elisabetta che è sterile ed è anziana e incinta nulla è impossibile a dio quanti segni dio semina nella nostra vita in persone accanto a noi che ci incoraggiano a dire il nostro sì che ci mostrano come dio sia davvero il dio dell'impossibile ma quante persone meravigliose che hanno aperto il loro cuore a dio e con la loro vita con la loro gioia magari nella povertà nella vita consacrata malati che splendono e riflettono luce dai loro occhi dai loro sorrisi pur nelle prove più tremende ci mostrano che davvero dio è il dio dell'impossibile che fa nascere vita dove vita non potrebbe nascere e alla fine maria dice il suo sì eccomi sono la serva del signore avvenga di me secondo la tua parola è un sì pieno è un avvenga di me che non significa ecco visto che non ci sono altre possibilità no è un sì detto con tutto il suo cuore lei si proclama la serva del signore e permette con questo sì meraviglioso alla seconda persona della santissima trinità di farsi carne in lei preghiamo la nostra madre perché anche noi nel nostro piccolo quotidiano possiamo dire i nostri sì a dio perché la sua parola si faccia carne anche in noi e così dio possa raggiungere con le nostre parole i nostri gesti d'amore la nostra vita il cuore di tanti buon cammino a tutti e che dio vi benedica pace e bene